Chi diavolo è questo? Chi diavolo è lei? Sei inizi. Non è meglio che te le vai divertendoti un po'? No, no, meraviglioso! Io ti odio con tutto il cuore! Si vive e si muore. Jack Nicholson, Morgan Freeman. Come trasformare il capolinea nell'inizio di un nuovo viaggio. Non è mai troppo tardi. Questa sera alle 21 su 27. Come si scende da questa tomba?